Dalla terraferma al mare, lo sportello del cittadino è a Taranto in via Garibaldi, l'affaccio al mare, il favoloso affaccio al mare, una iniziativa di rete a raccolta, ossia di varie associazioni che stanno realizzando un'opera di bonifica, un'azione di volontariato e di supporto con Chima Ambiente Amiu. Abbiamo uno dei volontari, Fabio, lo abbiamo trovato in acqua e quindi facciamo questo passaggio dalla terraferma al mare. Fabio, oggi potevi stare sulla splendida Litoranea e hai preferito invece dare il tuo contributo qui. Sì, ho preferito venire qua perché è una cosa che ho iniziato da qualche anno e iniziare l'estate anche di qua è una cosa bella. Iniziavo pure anche le spiagge. Quanti anni hai? 23. Quindi è un esempio per i giovani? Sì, abbastanza. Quando si dice che i giovani pensano solo alle discoteche, all'ultimo telefonino, al Grande Fratello, beh questa è la riprova che ci sono giovani e sono tanti a Taranto che amano la nostra città. Sì, penso che ci sono cose più importanti della televisione del Grande Fratello. Penso che sarebbe la cosa più importante pulire anche la città per far vedere che c'è qualcosa di bello a parte la televisione. Cosa avete trovato qui dentro? Bottiglie, sedie arrugginite, buste e tant'altro. Quella che si trova anche sulla strada alla fine. Un appello a essere più puliti? Cercare di non sporcare tanto e di essere puliti anche dentro casa. Minera. Grazie a tutti.